Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video, bentornati in un nuovo video dove svisceriamo, dove parliamo delle nuove uscite del Marvel Fresh Start Allora è passato circa un paio di settimane dal primo e così sono uscite altre nuove testate, sono uscite in particolare 6 nuove testate E per cui cominciamo a parlare di queste tre appunto e poi vediamo nel prossimo futuro come parlare delle altre perché è in uscita, mi pare proprio questa settimana Anche quella di Capitan America che è l'ultima ad uscire, manca ancora quella degli X-Men, manca quella di Pantera Nera, insomma ce ne sono ancora un po' di cui parlare Ma per adesso ci occupiamo di tre testate che sono tutte e tre di livello molto molto alto, nello specifico parliamo di Venom, di l'immortale Hulk e di Thor E cominciamo a parlare proprio di queste tre testate esattamente con quella di Thor Allora, a differenza di quasi tutte le altre testate, quello che è rimasto saldo in Thor, quello che è rimasto fisso, che penso che sia forse l'unico, forse l'unica eccezione è Pantera Nera Perché mi pare che lo scrittore sia sempre Coz Anche per Thor rimane fisso il suo scrittore, quello che è considerato forse il migliore scrittore attualmente sulla piazza Lo scrittore che ha rivoluzionato un po' la Marvel, che ha in mano le redini, anche la testata degli Avengers di cui abbiamo parlato settimana scorsa Ecco, il buon Jason Aaron torna a scrivere Thor, anzi torna a continuare a scrivere Thor in quella che è però la sua ultima run, il suo ultimo ciclo che gestirà di questo personaggio La cosa mi fa un po' male al cuore, però sono contento che comunque sia rimasto sul personaggio Cosa dire, dopo la conclusione di quello che è stato il legacy appunto per il personaggio di Thor, che ha visto anche la morte tra virgolette di Thor come l'abbiamo conosciuto fino adesso Cioè il Thor donna, diciamo così, che poi abbiamo scoperto essere Jane Foster, che appunto era entrata in possesso del martello Mjolnir Che si era dimostrata degna di poterlo sollevare, appunto dopo aver legato appunto il martello al Mangog, a questa creatura, all'apparenza indistruttibile Appunto Jane lo ha lanciato nello spazio, lo ha lanciato lontanissimo dalla terra Per cui non abbiamo più un martello di cui essere degni, diciamo pure così Allora cosa si inventa Jason Aaron per proseguire questa sua storia? Intanto, nonostante la guerra degli Dieci Regni sia ancora un tema preponderante Anzi è il tema principale di quella che penso, di quella che anzi sembra essere proprio questa nuova arco narrativa di Thor Che poi esploderà proprio in War of Realms in aprile Appunto, con la inclusione anche, con i ritorni innanzitutto di Russell Dotherman alle matite E poi con l'inclusione di tantissimi altri personaggi appunto in questa guerra Che coinvolge Midgard, Asgard e tutti gli altri regni appunto con cui questi regni sono appunto in guerra Nonostante ciò sembra che appunto il clima della storia sia molto più leggero Molto molto più comico, diciamo quasi, perché il nostro Thor attualmente si ritrova a praticamente raccogliere vari artefatti Vari oggetti magici appunto che si sono sparsi sulla terra dopo lo scontro col Mangog Appunto, però se è privo di questo martello allora cosa si inventa? Viene ritirato fuori un po' quello che era il concept iniziale di Fear Itself Cioè non c'è più un martello solo ma ci sono un'infinità di martelli Thor qua diventa un po' Iron Man Nel senso che si fa mandare da questo Itri il nano Che nella mitologia norena è tra l'altro colui che se non sbaglio dovrebbe aver creato proprio il martello di Thor Appunto lui si fa spedire tutti questi martelli all'occorrenza appunto lui impugna i vari martelli a seconda della necessità Ce ne sono di tutte le foggeri, ce ne sono di tutte le forme, di tutte le funzioni Appunto proprio come le armature multifunzionali di Iron Man Qua ci sono i martelli multifunzionali Ce ne sono la forma di mazza, uno che è tutto dorato, uno che si divide in due Insomma ce ne sono veramente un'infinità E al contempo visto che c'è questa guerra dei reami Come ogni guerra che purtroppo anche noi sappiamo E tra l'altro è un tema che tocca profondamente l'Italia Ci sono degli sfollati, ci sono delle vittime E in questo caso quasi tutti gli sfollati di Asgard Quasi tutti gli sfollati di questi dieci regni Vengono riversati appunto in vari altri regni Tra cui anche Midgard Quindi vediamo per esempio l'agente Solomon Che è stato un personaggio proprio introdotto da Jason Aron Nel suo ciclo iniziale di Thor appunto Come dire, coordinare alcune operazioni Per la sistemazione appunto di questi profughi E ripeto qui è un tema che tocca profondamente anche noi Contemporaneamente appunto il nostro Thor Sempre ormai indegno si è stabilito su questa barca Insieme a questo paio di animali Che sono questo pitbull infernale E a uno dei suoi due capri Soprattutto il pitbull mi fa spaccare da ridere Veramente è un personaggio completamente fuori di testa Simpaticissimo Che è sempre pronto a sgagnare qualsiasi cosa E riceve appunto il nostro Thor Una visita da suo fratello Da Loki Che lo invita a nuovamente A dargli una mano appunto In questa fase In questa operazione di Come dire Riorganizzazione delle forze armate Contro Malekith Contro Sindr Che è la regina di Maspelheim Il regno dei giganti di fuoco Degli elfi del fuoco Dei folletti del fuoco E giusto per chiudere in bellezza Questo primo numero I nostri vengono portati a Adesso non mi ricordo come si chiama Il regno dei giganti di ghiaccio Penso di Nifolheim Se non sbaglio Ma potrei tranquillamente sbagliarmi Non è vero Anzi stavo sbagliando Ma vengono portati a El Che è diventata come Nifolheim Proprio perché i giganti del ghiaccio Hanno conquistato anche questo regno E qua troviamo proprio a livello di tamarragine assurda Il decaduto fratello di Thor Balder A cavallo di un monster truck Con le ruote chiudate Pieno zeppo di armi Insieme a Scorge l'esecutore E anche ad altri personaggi appunto Della decaduto ormai Midgard Veramente già solo qua Io direi di cominciare a chiudere questa parte qui Perché è tamarrissima È veramente molto molto divertente Sono contento che Aaron si sia deciso A cambiare un po' Questo suo approccio Diciamo alla testata E insieme a questo cambio di approccio È stato cambiato anche il disegnatore Perché si è discusso a lungo Su chi avrebbe potuto Succedere appunto Russell Duterman Che ha affiancato Jason Aaron per un lungo ciclo di storie Appunto sulla storia di Thor indegno E alla fine la scelta è ricaduta Su Mike del Mundo Che si occupa anche delle bellissime copertine Ecco su Mike del Mundo apro sempre una parentesi Perché ho dovuto ricredermi su di lui O almeno in parte Perché io lo ritengo un grandissimo illustratore Un grandissimo copertinista Ci sono delle copertine Quelle per esempio Della visione di Tom King E Hernande Svalta Che sono veramente veramente splendide Ce n'è una con tutto l'albero genealogico Tecnologico appunto Cibernetico Rifatta appunto dal Mundo Però come disegnatore Come fumettista Diciamo che Non mi faceva propriamente impazzire Devo dire che è sempre la stessa cosa Però Ha uno stile molto strano Nel senso che Gioca molto sulla prospettiva Su I primi piani Per esempio guardate Questa pagina in cui si vede Lo so che magari dalla telecamera Non si vedrà bene Ma In cui si incontrano Eimdall e Thor Vedete come Appena mette la fuoco ovviamente la macchina Vedete come Eimdall È messo in primo piano Disegnato in maniera molto più definita Rispetto Rispetto a Thor Questa è una cosa che per esempio Dello stile del mondo Dai metti un po' fuoco per Dio Mi piace molto Ecco adesso dovrebbe Dovrebbe vedersi Mi piace molto Ci sono anche delle soluzioni grafiche Divertenti Per esempio Quella che è una delle prime Che è stata mostrata È questa Con gli occhi di Thor Che si intravedono Attraverso l'onomatopea Insomma Devo ricredermi un pochino Non mi fa impazzire Avrei preferito sicuramente Che Dotherman Rimanesse sulla Sulla testata Però appunto Lo rivedremo Sicuramente Nei Nei prossimi Nei prossimi numeri La particolarità Di questa testata Ed è una cosa che Jason Aaron ci ha abituato Già all'inizio Del suo ciclo di Thor È che è una storia Che si dipana Su più archi temporali Quindi storie che Non si sa Se a un certo punto Arriveranno A incontrarsi Se Jason Aaron ci ha abituato In una certa maniera Può anche darsi Che accada Appunto Un secondo arco narrativo Che è ambientato Nel futuro Dove vediamo Un re Thor Ormai vecchio Ormai stanco Che ha Ricreato La vita sulla terra Dando Ricreando un uomo Una donna Chiamandoli Steve E Jane Proprio come Due persone A lui molto care Appunto Lo vediamo Intento A fare il dio Fondamentalmente A ritornare sulla terra Tra gli umani Che lo pregano Insomma Dai suoi figli Ci sono le sue Tre nipoti Insomma Questa storia Ambientata nel futuro Che a un certo punto Viene interrotta Dal ritorno Di Mjolnir Quindi ormai Sappiamo che In qualche modo Mjolnir Tornerà Cosa abbastanza Ovvia Fin da quando Jane l'ha lanciato Per la prima volta Che appunto Mjolnir Sarebbe tornato Per Dirli Che fondamentalmente Il mondo Sta finendo E quindi Il nostro retor Decide di partire Alla volta Di questi confini Del mondo Che appunto Si sta pian piano Consumando Appunto In questo viaggio Incontrerà Alcuni personaggi Molto molto Interessanti Anche qua Che si collegano Alla Alla storia Quella degli Avengers Che Aaron Sta anche scrivendo Proprio ripeto Sulla testata Degli Avengers In particolare Su quella degli Avengers Del 10.000 A.C. Ecco Vi dirò Io sto seguendo Anche la testata In americano Sto apprezzando Molto di più Questa parte Della storia Con questo Thor stanco Anche perché Ci sono Questi disegni Splendidi Di Ward Guardate che roba Questo Thor Sembra Si capisce Veramente la stanchezza Di questo personaggio Mi piace molto Il suo stile di disegno Non vi faccio vedere Le ultime pagine Perché C'è uno spoiler Bello Bello Interessante Però appunto L'avete già Potuto vedere In queste pagine Molto molto bello Mi piace molto Devo dire che appunto Ripeto Gradisco molto di più Questa seconda parte Della storia Seppur in generale La testata di Thor Ancora una volta Si conferma Veramente di Altissimo livello Chissà chi seguirà Ad Aaron E se Riuscirà a mantenere alto Questo standard Parliamo adesso Di un'altra testata Di un'altra testata Che fin dalla sua uscita In America È stata veramente Molto molto decantata I lettori americani Sono impazziti Per questa testata Che è quella Di L'immortale Hulk Di Ali Wing Ed Ben Ed Ben Ed Ben Era 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 perché ho sbagliato Anche a dirlo Nel video scorso Quello di polvere Fumetti Joe Bennett Appunto L'immortale Hulk Anche questa Una mini serie Che prosegue Singolarmente Che prosegue Al prezzo di 2 euro Contenendo solamente La testata di Hulk E Anche di questo Ho potuto leggere Alcuni Alcuni episodi successivi Grazie al TP Che alcuni miei amici Hanno comprato Suo visto cose Che è arrivato a me Quindi prima di Restituirglielo Me lo sono Me lo sono letto Cosa dire Mi aspettavo Veramente grandi cose E effettivamente C'è C'è qualcosa Di veramente Molto molto interessante In questa storia Che Ha una Una caratteristica Molto molto interessante C'è quella di Saper creare Un'atmosfera Veramente Molto molto bella Un'atmosfera di tensione Un'atmosfera di Storie horror Si ritorna Quasi a quello Che era La primissima Versione di Hulk O la versione Per esempio Di Fixit Cioè Un Hulk Che È cosciente È un personaggio Non è più una bestia Senza controllo Una creatura Cosciente di sé E per questo Malvagia Per questo Cattiva Sembra quasi Addirittura Un vigilante Un personaggio Perché lo vediamo Soprattutto in questo Primo numero Fare giustizia Su Alcuni criminali Questo ragazzo Che uccide Per errore Una bambina Di 12 anni Appunto Un personaggio Che si muove In questa maniera Tra l'altro C'è questo rapporto Non nuovo Non inedito Ma Sicuramente Molto molto interessante Sicuramente Che vale la pena Di essere seguito Fra proprio Banner E il suo E il suo Ospite Che è un rapporto Di Molto simile A quello che era Quello dell'inizio Cioè tra un Dottor Jekyll e Mister Hyde Appunto Un banner Molto Timoroso Molto spaventato Soprattutto Da quello che sono Da quello che è Hulk Perché viene tormentato Costantemente Da questo Hulk Nuovo Diciamo Da questo Hulk Cattivo Da questo Hulk Malvagio Un Hulk Che tra le altre cose Non può morire Tutte le volte Che Per esempio Banner Viene ucciso In quel momento Si sveglia Hulk In quel momento Si manifesta Appunto Hulk E una volta Che appunto La rabbia di Hulk Si è estinta Si ritorna Ritorna Banner Ritorna appunto Questo A essere Il mite Bruce Banner E Leggendo anche i numeri Successivi Vi dico già Che il secondo numero È veramente Spettacolare È qualcosa Veramente di Si tocca Veramente Fumetti Horror Qua Si tocca Veramente Le vette Dell'horror È veramente Molto Molto Ripeto Atmosferico Si va Molto anche Sul pesante Ritorna Al tema Delle radiazioni Gamma E poi C'è questa Variabile Che molto Probabilmente Non si capisce Anche qua Che tipo Di Che natura Sia appunto Questo tipo Di variabili Diciamo Perché Non solo Banner Ma anche Altri personaggi Non vi dico Accomunati Da cosa Cominciano a vedere Questa Misteriosa Porta verde Questa misteriosa Porta Che sembra essere Stata creata Proprio da Un'esplosione Di radiazioni Gamma Proprio da Appunto Dall'esplosione Che ha dato poi Origine al personaggio Di Hulk Appunto Che Non si sa Dove porti Non si sa Cosa abbia Fatto entrare E in questo Io ci ho visto Veramente Molto Lovecraft Cioè L'ignoto La paura Di ciò Che non si Conosce Che poi È un po' Anche il tema Fondamentale Anche Del personaggio Di Hulk Cioè La gente Ha paura Di questo Personaggio Che non Conosce Se non Per la Sua Bestialità Vi dico Vi dico Vi dico già Che ritorneranno In campo Alcuni personaggi Che non sono Che non abbiamo mai visto Più di tanto Gravitare Attorno all'universo Di Hulk Ma che comunque Hulk e Banner Lo conoscono Abbastanza bene Insomma Sembra essere Veramente Una storia Molto Molto Interessante Dalle tinte Veramente Veramente Intriganti Disegnate Da questo Autore Questo Joe Bennett Che ha Uno stile Di disegno Molto Molto Pulito Ma che Allo stesso Tempo È veramente Di grandissimo Impatto Ci sono Queste due Pagine Che sono State Hanno fatto Il giro Del Web Una volta Che sono Uscite Perché Veramente Creano Una Tensione Creano Soprattutto C'è anche qua Un senso Della prospettiva Che per esempio Guardando questa pagina Si vede Si vede Molto Dall'occhio Del ragazzo Quindi Sembra quasi Si perché Cepisca Quella che è La vera dimensione Di questo Hulk Un Hulk che tra l'altro Ha anche Una Una connotazione Grafica Uno Stile Grafico Molto simile Per esempio A quello che era Il primo Hulk Quello di Di Stan Lee E Jack Kirby Cioè Un Hulk Che per esempio Ha I capelli L'attaccatura Dei capelli Molto in alto Non so Se si vede Se si vede Bene Da queste pagine Adesso Se vorrei vedere C'è quella finale Ma vorrei evitare Di spoilerarvela Per esempio Qua Questa qua Vedete come Ha i capelli Molto Molto Radi Molto corti È una cosa È una cosa che Per esempio Ho notato io Che aveva Il primo Hulk Non aveva Questo ciuffo Di capelli Non aveva Tutta la testa Piena di capelli Insomma Anche per esempio La copertina Di questo numero Richiama Quella che Mi pare La primissima copertina Del primo numero Di Hulk Disegnato da Jack Kirby Se non sbaglio E Allo stesso tempo Ripeto È uno stile C'è anche Quest'altra tavola Che ha fatto Il giro del web Che ci regala Questo Hulk Che traspare Malvagità Dal suo sguardo Da questo sguardo Dannatamente umano Dannatamente malvagio E Non bestiale Non istintivo Ma appunto Molto molto Umano E molto molto Cattivo Insomma Veramente Interessantissima Si giocherà ancora Sul rapporto Fra Banner E una Una persona Che gli è stata Molto Vicina In gioventù Che lo ha Definito Personalmente Si parlerà di Viaggio all'inferno E anche qua È molto figo Perché non si capisce Se sia tutto Una cosa Che è successa Realmente Cioè Se è una cosa Che accade Realmente Cioè di natura Mistica O se è un Tipo un viaggione Che Hulk Si sta facendo Nella sua testa Che Banner Si sta facendo Nella sua testa Stanco ormai Di condividere Il suo corpo E la sua mente Con questa creatura Mostruosa Insomma Veramente Si toccano Vette Molto Molto Alte E senza dubbio Questa è una di quelle testate Che non potete farvi scappare Lasciate perdere anche il fatto Che magari non avete mai letto La testata di Hulk Questo è un ottimo modo Per approcciarvisi Anche perché Gli ne sono successe Di cotte di crude Ultimamente Al Al Buon Banner Nel Passato Soprattutto in quelli Immediati In Civil War 2 Nella testata di Avengers Insomma è stato ucciso Riportato in vita Quindi anche questo Può aver giocato Una Un ruolo fondamentale Questa cosa Può averlo veramente Mandato fuori di testa Per cui lo vediamo Lo vediamo adesso In queste condizioni Per cui Straconsigliata Veramente Dateci un'opportunità Perché Merita Merita un sacco E concludiamo Adesso con Un'altra testata Che per ora È quella Migliore Che ho letto Quella che mi è Piaciuta di più Nonostante Mi sia piaciuta molto Quella di Thor Nonostante sapete Benissimo tutti Quanto a me piaccia Il personaggio di Thor E la testata di Thor Ma la testata di Venom Soprattutto leggere I numeri successivi A questo Mi hanno folgorato Testata scritta Da Donny Cates Che come vi dicevo All'inizio Sta scrivendo Lo scibile In Marvel E non No ve lo dicevo Nel video di polvere Scusatemi Degli acquisti Ho visto cose L'ho detto adesso Perché l'ho appena Finito di registrare Appunto Sta scrivendo Tutto lo scibile Possibile In casa Marvel E disegnato Da Ryan Stegman Su Ryan Stegman Faremo un discorso Alla fine Allora Anche qui Si ritorna molto Al classico Diciamo Perché Già il solo fatto Che L'ospite Appunto Del simbionte Che Il portatore Di questo simbionte Sia Non più Flash Thompson Che è deceduto Appunto nel finale Di Go Down Swinging L'ultimo volteggio Della testata di Spider-Man Appunto Ritroviamo Eddie Brock Ritroviamo Un Eddie Brock Allo stremo Delle forze Che vive fondamentalmente Come un barbone Soprattutto allo stremo Perché Il simbionte Comincia ad avere Degli incubi Banalmente Comincia Il simbionte stesso A non stare più bene A essere Un personaggio Tormentatissimo E a sua volta Tormentare anche Anche Flash Questo Lo porta anche lui Ad avere Delle crisi A dover Zittire queste voci Prendendo degli Psicofarmaci Per esempio Però allo stesso tempo Sta comunque Cercando di fare La cosa giusta Sta cercando di fare L'eroe Sta cercando di fare Il vigilante Occupandosi Di piccoli Criminali Locali Questo finché Non incontra Non incrocia La sua strada Un personaggio Misterioso Che Arriva a Non dico mettere in dubbio Ma a nuovamente Riscrivere Le origini Di questo personaggio Le origini di Venom Del simbionte Venom Che poi verranno Riscritte ancora una volta Perché scopriamo Che per esempio Il simbionte Era una versione Veniva utilizzato Come versione 2.0 Del progetto Rinascita Del progetto Di Capitan America Fondamente Che ha portato Alla creazione Di Capitan America Quindi questi soldati Che venivano Infettati Diciamo pure così Con Dei simbionti Con parti Di simbionte Appunto Per essere Impiegati Nella Nella guerra Questa è una cosa Che mi ha ricordato Molto Adesso non mi viene Più in mente Il nome Che non è soltanto Un altro giorno Ma Tornando a casa La serie di Spider-Man In cui Peter Parker Incontrava Un personaggio Il personaggio Di Ezekiel Che gli rivela Fondamentalmente Quella che è La vera origine Dei suoi poteri Quella che dovrebbe essere La vera origine Dei suoi poteri Mettendoli in allarme Da un pericolo Imminente Qui succede bene o male La stessa cosa Cioè che appunto Questo Rex Questo personaggio Che appunto Incontra Eddie Brock Appunto Gli annuncia Che c'è Che il simbionte Veniva utilizzato In questa maniera Ma allo stesso tempo C'è questo Questo sentore Questo qualcosa Che non sia Effettivamente così Che ci sia Qualcos'altro dietro E soprattutto Che qualcosa Stia arrivando Questa è una cosa Che mi è piaciuta Un sacco Soprattutto perché È una Una sensazione Molto cadenzata Sembra di sentire Questi tamburi Che si stanno avvicinando Questi fino a che Non si esplode Appunto in quella Che è Il climax Appunto di Almeno questo primo numero Con queste pagine Veramente Fenomenali Con questa creatura Che si alza in volo Sopra Sopra New York Sopra Manhattan Appunto Portatrice Di Niente di buono È una specie di creatura Di origine Molto molto simile A una creatura Di Lovecraft Che Anche qui Si Viene proprio annunciata Esattamente in questa maniera Una creatura che esisteva Fin dall'origine Dell'universo Che ha Infettato Ha portato sulla pazzia Vari pianeti Vari civiltà Per poi distruggerle Insomma È È veramente Molto molto figo Proprio questo suo L'arrivo in sé Poi questo porterà All'arrivo di un'altra Creatura ancora Che è il dio Dei simbionti Questo Null Che Metterà ancora una volta In dubbio L'origine stessa Del simbionti Un personaggio Che tra l'altro Si lega A un'altra testata Questa è una cosa Che mi ha fatto Impazzire A un altro personaggio A una continuity Precedente Di questo personaggio Bellissimo Veramente È una cosa Una cosa Fighissima Bello anche il rapporto Fra Fra Venom Fra il simbionte E Eddie Brock Che sono proprio In perfetta simbiosi Da un certo punto in poi Insomma È È veramente Bello Mi è piaciuto Veramente Veramente Molto È una testata Molto Molto Anche Tamarra Perché ci sono Cose graficamente Interessanti Una cosa che per esempio Mi è piaciuto È il fatto che Addirittura Si viene a sconvolgere Quello che è Il simbolo Che Venom Ha sul petto Che non è esattamente Un ragno Come tutti potremmo Aspettarcelo Ma è qualcos'altro Anche qua Ve lo Lo vedrete poi Nei numeri a seguire Però è veramente Veramente Interessante È veramente Una testata Figa E mi piace molto Soprattutto Anche perché Qui arriviamo Al discorso Di Ryan Stegman Soprattutto perché Mi sono dovuto Ricredere Pesantemente Sui disegni Di Ryan Stegman Ora Se voi andate a riprendervi I vecchi video Di quando si parlava Della Della nuovissima Marvel Ryan Stegman Disegnava La testata Degli Incredibili Avengers Ora Era una testata Che a me Non piaceva già di suo Non aveva Chissà quali Diciamo Come dire Twist Interessanti Non aveva Chissà che Il team Si era un po' Divertente Però Non era niente di Niente di che In più C'erano questi disegni Che a me proprio Facevano schifo L'avevo detto proprio Testualmente Perché i personaggi Sembravano disegnati La muscolatura Dei personaggi Sembrava fatta Con delle sfere Delle palline Proprio I muscoli Erano delle palle Insomma E Devo dire Che Vederlo disegnare A queste testate Che sono Questa testata Che invece Per esempio Con tutti questi Come dei tentacoli Chiamiamoli Tentacoli Questo stile Molto sinuoso Di Stegman Ecco Ci sta alla grande È veramente Fighissimo Ci sono delle pagine Anche Per via dei colori Guardate qua Che uso Splendido Dei colori Sembra Sono pagine Veramente Che trasmettono calore È È fighissimo Veramente È È fighissimo Stegman Sembra essere nato Per disegnare Questa testata È una Non penso Potrebbe esistere Un team Migliore di questo Veramente Mi è Mi è piaciuto un sacco Sembra veramente Anche tra l'altro Di Vedere Nelle pagine In cui Venom Perde il controllo Si Si lascia andare La sua È il suo aspetto Più Più Ferale Più Maligno Più Cattivo Sembrano pagine Di Dirò una cosa Molto forte Di McFarlane Veramente È Fighissimo Mi piace un sacco E sono contento Che stia disegnando Questa testata Anche questa Secondo me È una delle testate Che dovete assolutamente Recuperare Appena la macchina Mi rimette a fuoco È una testata Che dovete assolutamente Recuperare Se poteste scegliere Solo una testata Marvel Di questo rilancio Fate che sia questa Mi raccomando Fate che sia Venom Lo dico veramente Pensando tanto a Thor Ma fate che sia Questa testata Perché è veramente Molto molto figa E merita 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 Un sacco Mi raccomando Datemi ascolto Vedrete Che non ve ne pentirete Fatevi sapere Cosa avete letto Di queste testate Se a voi sono piaciute Tanto quanto sono piaciute A me Mi raccomando Commento qua sotto Sapete benissimo Come funziona Potete magari dare un'occhiata A quei volumi americani Se vi interessa Potete acquistarli Su Suo visto cose Trovate il link In descrizione E niente Io vi saluto Ci vediamo venerdì Con Polvere e Fumetti E Non so quando Riuscirò a pubblicare Gli altri video Di questi Di questi nuovi numeri Uno Di questa Di questo fresh start Della Marvel Però insomma Vedremo un po' Cosa Cosme riuscirò A organizzarmi Sicuramente Prima di Natale Qualcos'altro Di qualcos'altro Riusciremo a parlare Io vi saluto ancora una volta E vi rimando in un prossimo video Ciao Beli